benvenuti su claudio masci.com proseguiamo con l'imparare la sintassi di base del c++ con questo nuovo video andiamo ad approfondire i commenti e le variabili iniziamo dai commenti i commenti in c++ si possono inserire in due modi il primo è inserendo una doppia slash seguita poi dal commento che vogliamo inserire in questo modo possiamo inserire dei commenti su un'unica riga infatti se poi vado a scrivere sulla riga successiva non sarà più un commento e ovviamente mi darà errore perché non verrà riconosciuto il codice altrimenti se volessi scrivere un commento su più righe andrò a scrivere slash asterisco posso scrivere questo commento è su più righe e per chiudere andrò a scrivere asterisco slash e tutto quello che c'è dopo tornerà codice quindi verrà compilato, verrà letto dal compilatore tutto quello che in questo caso è in verde comunque che è dopo il doppio slash nel caso di una sola riga oppure dopo slash asterisco e prima di asterisco slash viene considerato commento quindi non viene compilato non viene considerato in fase di compilazione del programma i commenti generalmente servono per spiegare quello che stiamo facendo quindi inseriamo un commento prima di andare a scrivere una qualsiasi istruzione per andare ad indicare che cosa farà quell'istruzione i commenti in programmazione sono fondamentali tanto quanto il codice stesso perché ci aiutano a distanza di tempo a individuare o a capire immediatamente quale funzione andare a modificare questo è fondamentale quando si sviluppa un programma soprattutto abbastanza complesso e poi vogliamo ovviamente mantenerlo quindi aggiornarlo nel tempo è fondamentale l'utilizzo dei commenti per andare a individuare rapidamente la parte che ci interessa altra funzionalità fondamentale dei commenti è quella di spiegare il motivo per cui abbiamo eseguito un'operazione perché magari c'è una funzione che non eseguiamo in modo proprio standard quindi nel modo più corretto possibile ma magari lo abbiamo fatto per un motivo particolare quindi abbiamo inserito una scorciatoia un metodo comunque per evitare un problema ed è importante scriverlo quindi commentarlo perché magari a distanza di tempo potremmo rivedere il codice considerarlo un errore andarlo a correggere e in realtà fare danni quindi andare magari a correggere una cosa che era stata fatta volontariamente o ancora può essere utile quando si lavora in team perché ovviamente quello che faccio io non può saperlo ad un'altra persona quindi magari faccio una modifica invio il codice ad un'altra persona magari vede una cosa che secondo lui può essere sbagliato può essere migliorata se non gli commento quindi se non spiego il motivo per cui ho fatto quella scelta magari può andare a modificarla e a creare un problema nel software quindi è fondamentale commentare qualsiasi cosa scriviamo ovviamente non andiamo a scrivere per ogni riga per ogni istruzione un commento però le parti più importanti è bene commentarle un'ultima nota per quanto riguarda i commenti i commenti su riga singola in teoria possono essere inseriti anche alla fine di un'istruzione quindi io potrei inserire direttamente il commento sulla stessa riga dell'istruzione in questo modo vado a commentare quello che ho scritto prima generalmente si consiglia di non farlo cioè è una pratica che non viene fatta molto spesso se il software è vostro quindi se state lavorando a un programma vostro quindi non ci sono altre persone che se ne occupano potete tranquillamente farlo ovviamente è una cosa che aiuta voi che vedete solo voi generalmente se no non viene vista molto bene personalmente credo che sia utile nel caso vogliamo aggiungere diciamo indicare il commento per una riga specifica possiamo ovviamente andarlo ad inserire sopra quindi la riga successiva e andiamo a indicare ovviamente possiamo scriverlo sopra però averlo di fianco può essere utile ovviamente va a fine riga perché se lo mettessimo a inizio riga diventerebbe tutto un commento e quindi perderemmo il codice inserito passiamo ora alle variabili le variabili sono composte da tre elementi il tipo il nome e il valore quindi ogni variabile ha necessariamente questi tre elementi il tipo specifica appunto il tipo di variabile quindi che cosa che valore andrà a contenere quindi ad esempio se è un numero se è un testo se è un numero intero un numero con virgola quindi ci andrà a chiarire da subito di che tipo di contenuto che tipo di contenuto stiamo andando ad affrontare il nome serve ad indicare univocamente quella variabile quindi ci serve a far capire ci serve a noi per capire a quale variabile ci stiamo riferendo quindi che cosa stiamo andando a richiamare e il valore ovviamente è il contenuto di quella variabile quindi nel caso di un numero è appunto il numero assegnato a quella variabile prima di poter utilizzare una variabile dobbiamo dichiararla appunto scrivere all'interno del nostro software il tipo e il nome della variabile ad esempio andiamo a scrivere andiamo a creare una variabile di tipo intero chiamata età e andiamo ad assegnarle un età quindi un numero andiamo quindi subito ad indicare che stiamo creando una variabile di tipo intero chiamata età importante non utilizzare lettere accentate perché non sono riconosciute quindi nel caso in cui dovessimo utilizzare delle lettere accentate quindi nel caso in cui una parola sia accentata scriviamola senza accento viene utilizzato tranquillamente questo metodo quindi in programmazione tutti quanti rinominano le variabili togliendo gli accenti e altra cosa importante le variabili non possono iniziare con un numero quindi non è possibile scrivere ad esempio 0 età ma possiamo scrivere età 0 quindi oppure ovviamente e0 quindi i numeri possono essere utilizzati nel nome della variabile ma la variabile non può iniziare con un numero non si possono utilizzare simboli qualsiasi tipo di simbolo nella variabile l'unico simbolo accettato è l'underscore quindi posso ad esempio andarlo ad inserire per rendere più leggibile la variabile altrimenti ovviamente potrei scrivere semplicemente le lettere solitamente si consiglia di scrivere ogni lettera maiuscola quindi l'iniziale di ogni parola maiuscola nel caso in cui siano più parole ci sono diciamo diversi metodi di nomenclatura delle variabili uno dei metodi è iniziare sempre con una lettera minuscola e poi scrivere l'iniziale maiuscola per qualsiasi altra parola un altro metodo è appunto quello di utilizzare la maiuscola per ogni parola si sconsiglia quello di scrivere interamente in minuscolo c'è chi lo utilizza ma in caso di molte parole diventano difficili da leggere quindi il mio consiglio è quello di utilizzare questo stile quindi la prima lettera sempre maiuscola di ogni parola andiamo quindi ad assegnare il valore uguale ad esempio 20 punto e virgola ovviamente alla fine di ogni istruzione in questo modo abbiamo dato il tipo di variabile quindi una variabile intera quindi si aspetta che il valore sia un numero il nome della variabile che possiamo deciderlo noi quindi età numerica uguale dopo l'uguale andiamo ad assegnare il valore che è 20 nel video precedente abbiamo visto una variabile di tipo stringa in questo caso se io facessi una cosa del genere riceverei un errore perché ho indicato che la variabile è di tipo intero quindi il compilatore si aspetta che qui ci sia un numero trova una stringa e ovviamente riceveremo un errore ci dice conversione non valida da costante character a integer perché ovviamente si aspetta che ci sia un numero e invece trova un testo in questo caso ovviamente andandolo a correggere non ci sarebbero più errori un altro elemento importante delle variabili è che in fase di dichiarazione quindi quando andiamo ad inserire la variabile non è importante anche assegnare un valore quindi potremmo anche semplicemente scrivere int eta numerica quindi praticamente stiamo dichiarando la variabile ma non assegniamo nessun valore quindi in questo caso abbiamo creato questo diciamo contenitore quindi c'è questo elemento che ovviamente aspetta un valore quindi al momento è come se fosse una scatola vuota quindi non c'è niente al suo interno dobbiamo poi andare ad assegnarlo quindi è possibile farlo inoltre è possibile dichiarare più variabili contemporaneamente lo andremo a vedere adesso perché andremo a creare un piccolo programma che ci calcola la nostra età quindi invece di età numerica andiamo ad inserire anno nascita ovviamente per calcolare l'età dovremmo inserire anche l'anno attuale quindi potremmo scriverlo così anno attuale quindi abbiamo dichiarato due variabili di tipo intero anno di nascita e anno attuale visto che sono entrambe integer quindi entrambe dello stesso tipo non c'è bisogno di dichiararle su righe diverse possiamo dichiararle sulla stessa riga separandole con una virgola andiamo adesso a scrivere il programma che andrà a calcolare l'anno di nascita l'anno attuale quindi ci dirà quanti anni abbiamo abbiamo già visto nel video precedente cout e cin quindi cout, kin, cin input e output andiamo ad utilizzarli quindi utilizziamo il cout in che anno sei nato aggiungiamo un endline cin anno nascita cout in che anno siamo aggiungiamo aggiungiamo sempre chiuse virgolette endline cin anno attuale quindi ci ha chiesto quando siamo nati e in che anno siamo adesso dobbiamo fare un semplice calcolo che va a dirci quindi quanti anni abbiamo possiamo farlo in due modi o direttamente sul cout quindi direttamente mostrarlo all'utente oppure con una nuova variabile vediamo entrambi i casi quindi creiamo una nuova variabile di tipo intero età la possiamo chiamare semplicemente età andiamo a scrivere età ovviamente uguale anno attuale meno anno nascita e adesso con il cout andiamo a dire ai spazio età quindi andiamo a unire una stringa una variabile e un'altra stringa salviamo avviamo quindi in che anno sei nato mettiamo 1990 non è vero in che anno siamo 2022 ci dice che hai 32 anni ok io ne ho un po' di più però andiamo avanti vediamo invece l'altra alternativa quindi non non andiamo a creare la variabile commentiamo queste due righe e utilizziamo direttamente il cout ai ovviamente tra virgolette ai anno attuale ovviamente andiamo ad aggiungere meno anno nascita anni salviamo ed avviamo stessa cosa in che anno sei nato mettiamo 1950 in che anno siamo 2022 ai 72 anni quindi possiamo o mandare direttamente l'espressione quindi il calcolo nel cout oppure creare una variabile diciamo che non c'è un metodo migliore dell'altro la variabile è utile nel caso in cui dovessimo mantenere questo valore quindi se ci serve poi andarlo a riutilizzare è sicuramente utile sicuramente meglio andarlo a salvare in una variabile altrimenti lo dovremmo richiamare nuovamente ad esempio se dovessimo poi usare un altro cout scrivendo ad esempio tra un anno avrai variabile che poi andremo ad inserire anni in questo caso dovremmo fare anno attuale più uno anno attuale meno anno di nascita più uno ma ci basterà altrimenti fare solo età più uno ovviamente questo è un un caso diciamo abbastanza semplice credo di aver cancellato la c ok salviamo andiamo a mettere una endline qui salviamo nuovamente quindi in che anno sei nato mille novecento trenta andiamo sempre più indietro 2022 hai 92 anni tra un anno avrai 93 anni questo è un caso semplicissimo quindi abbiamo semplicemente utilizzato un più uno ma ci potrebbe capitare di dover riutilizzare spesso l'età quindi magari la calcoliamo una sola volta la salviamo e la riutilizziamo invece se avessimo utilizzato questo metodo avremmo dovuto di volta in volta rifare lo stesso calcolo quindi su un'esercitazione in cui viene magari chiesto una volta due volte tre volte non appesantisce molto ma quando abbiamo necessità di richiamare quindi di sapere l'età dell'utente più volte andremo ad appesantire troppo il compilatore nel caso in cui volessimo ricalcolarla di volta in volta quindi se dobbiamo mostrarla un'unica volta va benissimo inserire nel cauto altrimenti la scelta migliore è sempre quella di utilizzare una variabile vediamo due casi di dichiarazione della variabile ovviamente ce ne sono anche altri ma sono un po' più complessi al momento non ci interessano quindi vediamo due modi in cui possiamo dichiarare le variabili questi due modi sono globale e locale la differenza sta che nel fatto che se dichiariamo una variabile di tipo locale la possiamo utilizzare solo all'interno della funzione che l'ha richiamata non andremo a vedere al momento le funzioni le vedremo nei prossimi video comunque vi faccio vedere velocemente noi abbiamo l'int main quindi è la parte principale il cuore diciamo del nostro programma ma potremmo avere ad esempio diciamo secondario ok quindi abbiamo qui un'altra funzione ok che può essere poi richiamata poi questo lo vedremo in futuro diciamo che al momento noi abbiamo dichiarato anno nascita anno attuale ed età come tre variabili all'interno di int main questo significa che da secondario anno nascita non sarà disponibile quindi non posso andare a chiamare questa variabile qui perché non esiste è una variabile locale esistente solo all'interno di int main ovviamente potrei ricreare la variabile chiamarla int anno nascita che sarebbe completamente scollegata da questa quindi se io assegno un valore ad anno di nascita qui questo anno di nascita non avrà quel valore perché sono due variabili con lo stesso nome ma che non hanno nient'altro in comune tra loro sarebbe come dire due persone che hanno lo stesso nome ma ovviamente non sono la stessa persona funziona nello stesso modo quindi sono due variabili diverse se invece io volessi creare una variabile che viene riconosciuta sia da secondario che da main dovrò creare una variabile globale per farlo la vado a creare all'esterno di qualsiasi funzione non deve essere inserita all'interno quindi int anno nascita ovviamente in questo caso non devo richiamarla qui perché è già stata dichiarata all'esterno e in questo caso anno nascita posso utilizzarla sia in main che in secondario perché è una variabile globale quindi esiste nell'intero progetto quindi tutte le funzioni presenti in questo progetto possono accedere al contenuto di anno nascita infatti se andiamo ad eseguire il programma andiamo sempre più indietro 1900 in che anno siamo 2022 vedremo che funzionerà ugualmente perché a non nascita è una variabile globale quindi esiste all'interno di main ed esiste all'interno di secondario andiamo ora a vedere i diversi tipi di variabili che possiamo utilizzare li vediamo all'interno di secondario tanto è uguale non andremo a fare un esempio per ognuna di queste la prima l'abbiamo appena vista quindi è una variabile di tipo intero che è ad esempio 20 quindi abbiamo un numero intero la seconda è una variabile di tipo booleana che si scrive bool e possiamo chiamiamola booleana in questo caso andiamo ad indicare true o false quindi la booleana ci indica solo se un valore è vero o falso il terzo tipo di variabile è car character che può essere tradotto in lettera e in questo caso andiamo ad inserire una semplice lettera ovviamente questo tipo di variabile può contenere un'unica lettera importante la lettera inserirla tra singoli apici variabile tipo di variabile successivo è il tipo float quindi a virgola la possiamo chiamare ad esempio decimale uguale 10.20f quindi in questo caso andiamo a scrivere un numero la virgola o il punto in questo caso i numeri decimali ed f per indicare che è un valore decimale double numero decimale lo chiamiamo nello stesso modo uguale 10.20f scriviamolo nello stesso modo la differenza tra il float e il double sta nel numero di decimali che queste variabili riescono a gestire il float riesce a gestire fino a 7 decimali il double fino a 14 quindi quando si vuole un numero più preciso si punta sul double altrimenti si può utilizzare il float non rientra tra le variabili standard o di base ma andiamo ad inserire anche la variabile che abbiamo visto nel video precedente e cioè string possiamo chiamarla ad esempio testo uguale questo è un testo ovviamente la variabile di tipo stringa può contenere qualsiasi tipo di testo per questo video ci fermiamo qui se il video ti è piaciuto metti like in questo momento mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.